fiducia è una parola che va per la maggiore in questo periodo ma la fiducia è legata a un'altra questione quella dell'umiltà cioè la capacità di vederci per chi siamo veramente quella di guardare i nostri limiti e capire cosa ci manca ma anche ciò che abbiamo e in questo ridursi umile di solito uno fa aumentare gli altri cioè impara a vederli meglio a scoprire chi sono e allora quando ci si riconosce tra persone tra chi sia veramente è lì che si può davvero costruire la fiducia senza le persone invece non si va lontano